Gentili telespettatori, anche Apple lascia la Cina. Scoop del Wall Street Journal, un segnale epocale. L'Occidente investirà nei paesi alleati. Apple lascia la Cina. La notizia diffusa dal Wall Street Journal, se confermata, avrebbe un senso epocale e lo scriviamo senza voler induciare nell'enfasi. Circa il 90% del processo di produzione di telefonini tablet e laptop che moltissimi di noi usano è da anni opera di lavoratori cinesi. Ma ora in ragione sembrerebbe, dalle rigide politiche di lockdown del governo comunista, la mela di questa impresa morsicata, sembra volersi trasferire in India o in Vietnam, dove sarebbe il clamore che era giustamente il lettore e il segno che sta cambiando tutto. Infatti uno dei tanti sintomi della fuoriuscita dalla globalizzazione, cominciata già da anni ma intensificatasi con la pandemia e ora con la crisi internazionale. Qualcuno la chiama la deglobalizzazione, qualcun altro nuova globalizzazione. Di certo l'idea, nata dopo il crollo del muro di Berlino, che per aziende e imprenditori il mondo si fosse fatto piatto e ognuno potesse e dovesse investire ovunque, soprattutto dove la forza lavoro costava poco, sembra finita. La Cina, inserita nel commercio mondiale dal presidente Clinton, è stata la principale beneficiaria di questo fenomeno che ha cambiato radicalmente il mondo, diventando però così anche la potenza non solo economica ma anche militare in grado di surclassare gli Stati Uniti e il mondo occidentale. Dove porterà questa, che chiamiamo post-globalizzazione e deglobalizzazione, difficilmente prenderà le forme di un neonazionalismo economico, come voluto dal precedessore dell'attuale presidente Joe Biden degli Stati Uniti, anche perché nel caso Apple tornasse a produrre negli Stati Uniti il costo del telefonino e dei vari computer diventerebbe almeno cinque volte superiore. Immaginatevi un cellulare che costa magari 6-7 mila euro. Più probabilmente sarà una globalizzazione geopolitica, cioè si arriverà al cosiddetto decoupling, si investe solo in quei paesi appartenenti a un certo sistema di alleanze. Questo cosa vuol dire? La globalizzazione che nasce con l'avvento del computer, di internet, dove tutto è più vicino, tutto è più veloce, tutto è più economico, la videochiamata, i viaggi, si può comprare dappertutto, in Amazon si può comprare una cosa che ti arriva dagli Stati Uniti in tre giorni, per esempio, e ti risulta più conveniente che nel negozio sotto casa. Più conveniente con tutto il trasporto tra continenti. La globalizzazione che ha fatto terra bruciata, terra piatta, dove le aziende concorrono a livello mondiale, dove in uno Stato ci sono prezzi, costi del lavoro alle stelle, e allora si delocalizza, si porta alla produzione in quei paesi che chiamano in via di sviluppo, dove in realtà lì non ci sono diritti del lavoro, mancano i diritti della persona, mancano tante cose, i costi di produzione sono notevolmente più bassi, costo del lavoro, costo del terreno, costo della luce, eccetera, eccetera, e così si delocalizzano le aziende per competere, perché al supermercato puoi trovare il pomodoro che ti arriva dall'Azerbaijan, che costa meno del pomodoro che c'è a un chilometro, perché il costo del lavoro è esorbitante. La globalizzazione ha portato a questo, si vende tutto dappertutto, senza muri, senza barriere, ma sembrerebbe che non sia durata poi così tanto questa globalizzazione, se parliamo di neanche 30 anni, neanche 30 anni, adesso la deglobalizzazione o post-globalizzazione porterebbe a una globalizzazione parziale, ecco, con i blocchi tipo Guerra Fredda degli anni Ottanta, dove, non so, il blocco dei paesi comunisti potrebbe viaggiare commerciando tra di loro, con il loro sistema per i pagamenti che sostituisce lo Swift, dove i viaggi sono solo all'interno, il turismo è solo all'interno di questi paesi, la Apple che dalla Cina va in India, dalla India magari va in altri paesi che si intendono di quell'area politica, di quella sorta di suddivisione del pianeta, quindi dall'India potrebbe tornare magari verso il Messico, considerato da questa parte, ecco, una sorta di divisione, una sorta di divisione che porterebbe appunto a investire solo in quei paesi appartenenti a un sistema di alleanze militari, economiche, politiche, ecco perché di recente il viaggio di Biden in Asia è stato assai importante per rinsaldare l'asse contro la Russia e contro la Cina, non solo dal punto di vista militare e politico, ma anche commerciale, perché intanto Apple è un colosso dell'industria mondiale, come ad esempio Starbucks, McDonald's, Renault, centinaia e centinaia di aziende hanno lasciato quel mondo lì, ormai definito da questo mondo di qua, come ostile. La globalizzazione sarà insomma vista, diciamo, sarà sempre più regolata dagli imperativi geopolitici, ecco, del resto aveva cominciato la Cina con la sua via della seta, essa cercava e cerca di inglobare paesi occidentali sfruttando la loro debolezza economica, con la Russia in parte con l'Ungheria e la Grecia ci è riuscita, con l'Italia ci aveva provato, infine che sia proprio Apple ad abbandonare la Cina è simbolicamente importante, perché Steve Jobs, con le sue straordinarie creature, le sue visioni, è stato l'incarnazione della globalizzazione dei bei vecchi tempi, gli anni 90, i primi 2000, che però, da quello che si è capito in questi ultimi quattro mesi, quegli anni lì, non torneranno più. Siamo in una post-globalizzazione o una globalizzazione settaria, divisa in settori geopolitici, una sorta di guerra fredda, anche economica, una post-globalizzazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti, qui su Teleitalia, grazie per avermi ascoltato, e ci vediamo tra poco tempo. Voi sapete che sono di viaggio, pertanto questi video sono registrati con anticipazione, per non lasciare il canale vuoto in questi giorni, avere anche una continuità, anche per chi è abituato, e ha preso l'abitudine a vedere Teleitalia tutti i giorni, ho voluto lasciare questi video pre-registrati, in modo da avere una continuità, una globalizzazione di Teleitalia, una post-globalizzazione di Teleitalia. Grazie a tutti, e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo, presto.